L'Olimpia della storia moderna L'Olympic Stadium, con una capeienza di 80.000 posti, sarà la sede principale dei giochi, nonché di tutte le gare di atletica e delle cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiade. E poi ancora, solo per citarne alcuni, la Handball Arena per la pallamano e il pentathlon moderno, il velodromo per le gare di ciclismo su pista. Sarà invece la Wembley Arena, nella zona nord-occidentale di Londra, ad ospitare le gare di ginnastica ritmica. Le qualificazioni individuali di squadra, che vedranno fra le protagoniste la nostra campionessa Giulietta Cantalupi e le farfalle campionesse del mondo, inizieranno giovedì 9 agosto. Sta per essere ultimato anche il villaggio olimpico, situato nel cuore dell'Olympic Park, in grado di ospitare circa 18.000 persone, che verrà poi trasformato dopo i giochi in un grande complesso scolastico. Grazie a tutti!